. Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 26 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Luna protagonista ma solitaria. Protagonista la luna nel vostro segno e come sempre quando transita nelle vostre parti è romantica, golosa e piena di aspettative. Con le rosa magari qualcuna verrà appagata, ma in fatto di complicità, amicizia, condivisione di umori e di valori nulla da fare, con Saturno selettivo in se stile è difficile trovare qualcuno che vibri sulla vostra stessa lunghezza d'onda, oggi siete troppo sensibili o per meglio dire suscettibili, basta un'inezia a farvi mettere il muso. A farvi riflettere anche la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una piaga dilagante con Marte in ottava casa, la più assassina delle dodici, oggi sul caso manifestate una particolare acuta sensibilità. Perché si arriva a tanto. Amare significa proteggere, prendersi cura, condividere, il possesso è un'altra storia, che con il cuore non ha nulla che vedere, non è materia per il poeta, casomai per lo psichiatra. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordi e letigi, contrasti e zuffe. È un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. L'arte dell'arrangiarsi a te manca. Ma adesso dovrai impegnarti a fondo per non precipitare? Dovreste pensare a fare un po' di pulizia tra le vostre amicizie sui social network, molte persone vi creano inutili tensioni e non contribuiscono affatto alla vostra emotività. Se avete una storia extra sarà bene chiarire con l'altro i limiti oltre il quale non siete disposti ad anadare. È facile infatti che vi si chieda di più mettendovi parzialmente in crisi, e voi avete bisogno i di serenità. Proposte piuttosto confuse da parte di qualcuno che non desidera affatto il vostro bene. Cercate di limitare i danni non accettando certe proposte assurde. Arginerai una situazione che stava prendendo una brutta piega. Mettici determinazione e impegno. In amore guardate avanti e non voltatevi assolutamente indietro, fate tutto come se il passato non esistesse. Vi attendono nuove emozioni, ma dovrete guadagnarvele spazzando via il passato. Fai attenzione alle proposte che sembrano allettanti ma che invece nascondono dei tranelli. Avrai mille cose di cui occuparti e ti sembrerà che il tempo a tua disposizione trascorra troppo velocemente. Rate troppo alte o troppo a lunga scadenza potrebbero crearvi qualche problema nel momento in cui chiederete un prestito o un mutuo, valutate in ogni caso le condizioni e fate bene i vostri calcoli. Buona iniziativa quella di fare un po' di pulizia a casa e. Tra gli amici, negli ultimi tempi questi ultimi vi stanno condizionando troppo. Prendete le distanze da chi vi fidate poco. Nessun pianeta oggi vi è ostile, fenomeno astrologico piuttosto raro nei passaggi planetari e la previsione dei transiti è ottimale. Dalla vostra parte, tra tutti gli altri pianeti, avete un'audace giove, vostro governatore ideale, ora congiunto, a darvi manforte. Oggi in calendario si celebra Santa Caterina d'Alessandria, la filosofa che mise a tacere gli esperti, ovviamente tutti maschi, convocati appunto per trarla in inganno e farla capitolare sui suoi propositi di fede. Non ci sarebbe giornata migliore per celebrare l'intelligenza femminile, la sua creatività ma anche la fragilità su cui vegliare, la forza delle donne è tutta interiore. La supremazia maschile sta nella muscolatura, non nella testa, ma finché questa verità non sarà chiara a tutti. Così parla di voi la bianca signora, soprattutto di voi donne del toro, della vostra sensibilità, della vostra capacità di accogliere, curare e nutrire, in una parola amare. E a lungo precisa il sestile di Saturno, per voi nulla è un capriccio, quando vi prendete un impegno lo rispettate, costi quel che costi. Persone affidabilissime dunque, sulle quali poter sempre contare. Amore ed Eros. Una lunga amicizia potrebbe, in linea teorica, sfociare in amore ma non è detto accada. Può starci invece dopo una serata gogliardica o una singola notte di passione, magari senza seguito. Lasciarsi andare ogni tanto è bello, sempre che vada bene per entrambi. In ogni caso per un consiglio o un supporto sulle amicizie di vecchia data potete sempre contare, poche parole ma fatti concreti. La luna nel vostro segno promette una fase di relax con la vostra dolce metà, che poi assaporerete via via anche nei prossimi giorni a venire. Per il momento ricercate l'intimità nel nido, specie se appartenete alla prima decade del toro. Non date peso a malumori passeggeri vostri o del partner se appartenete, invece alla terza decade. Plutone molto positivo vi dona uno slancio erotico di tutto rispetto, specie se siete nati dal 16 al 20 maggio, Eros che vi giocate con la persona che avete accanto e a cui volete bene. Lavoro e denaro? Se un collega vi chiede di sostituirlo per un turno non gli direte di no, ripensando alle volte in cui lui o lei l'ha fatto per voi, dovere contraccambiare. Un filo di preoccupazione per i conti che dopo le pazzie del Black Week cominciate a controllare andando un po' in fibrillazione. Va bene che si va avanti a sconti, ma questo non significa che dobbiate far fuori proprio tutto. Giove, il vostro pianeta più potente in grado di favorirvi adesso, vi fa ottenere la considerazione di chi vi circonda, siano i capi, i colleghi, i collaboratori, specie se nati dal 23 aprile al 2 di maggio. Vi guadagnate ancora una volta la palma del personaggio che più si dà da fare nel vostro ambiente professionale, spesso coprendo le defailanci di altri o, ancora, tamponando deficienze lavorative qua e la sempre presenti in ufficio. Benessere. Nulla che non vada, un po' di stanchezza c'è ma il recupero è quasi immediato. Bello prendersela comoda senza appuntamenti o scadenze impellenti. I weekend trascorsi a casa sono lunghi ma non per questo improduttivi. Avrete tempo per riflettere, meditare, riordinare la casa e anche la vostra anima. Fate pure senza fretta. Per lei, ai vostri figlioletti insegnate fin da piccoli a rispettare voi, la zia, la nonna, la sorellina. Patti chiari, amicizia lunga, dice il proverbio. Per lui, pensiero e azione oggi si scontrano bloccandosi a vicenda, inutili tentativi che andranno a cadere nel vuoto, accontentatevi di riflettere cambiando strategia. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.